Eria, cominciamo dalle parate dopo cinque minuti e poi ancora nel secondo tempo altre parate decisive, ma grande prestazione di squadra, grande prestazione in fase di non possesso, carattere, orgoglio, grinta. Sì, è ovvio che per uscire con un punto dal campo della prima in classifica bisogna soffrire tutti da squadra e noi l'abbiamo fatto, bisogna parare tutto da squadra, quindi non è che solo io ho parato, ma abbiamo parato perché siamo una squadra, quindi ci abbiamo portato a casa dei punti, è merito di tutti. La strada è lunga, dobbiamo continuare così perché troppe volte abbiamo fatto delle buone prestazioni e subito dopo abbiamo perso dei punti per strada che non andavano persi. Cosa può dare dal punto dell'energia fisica e mentale questo pareggio? Dà tanta fiducia perché venivamo da una prestazione brutta di mercoledì, da una sconfitta 3-0 contro comunque la Pro Sesto quindi ci dà tanta fiducia per affrontare le prossime due partite di questa settimana che sarà una settimana lunga e difficile, soprattutto perché giochiamo contro la Juve e poi abbiamo uno scontro fondamentale contro il Legnago. Nonostante tu sia giovanissimo, adesso facciamo una domanda dal punto di vista personale, sei entrato di diritto come uno dei fari di questo gruppo e anche in campo ti fai sentire sempre con i compagni, con i difensori e non solo? Sì, diciamo che è una caratteristica del portiere quella di farsi sentire, quella di prendersi comunque le responsabilità, io ho scelto di fare questo ruolo ormai 15 anni fa, quindi le responsabilità fanno parte della mia vita e continuerò a prendermela perché comunque sono qui per aiutare la squadra, non gioco da solo e non gioco solo per delle soddisfazioni personali. Grazie.